Un saluto ben ritrovati a tutti ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Per l'avvio della nuova settimana l'anticiclone tornerà a rinforzarsi sul nostro territorio per l'allontanamento dell'area di bassa pressione verso la Grecia. Tempo quindi stabile in prevalenza soleggiato sul nostro territorio con clima piacevole nelle ore centrali della giornata, frizzante invece di notte e al primo mattino. Da giovedì però attenzione qualcosa potrebbe di nuovo cambiare. Tutti i dettagli come sempre scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.